Ciao a tutti, oggi faremo la carbonara di Marchesi. Spaghetti alla carbonara. Ho elipinato il bianco dell'uovo, assolutamente inutile, e aggiunto la panna, che conferisce anche un tocco di eleganza al piatto, per far sì che l'uovo non si ragrumi. Il guanciale può essere sostituito dalla pancetta. Certo, non è la stessa cosa. Ingredienti. 320 grammi di spaghetti. 100 grammi di guanciale. Un quarto di panna fresca. 4 tuorli. Un cucchiaio di pecorino grattugiato. 30 grammi di burro. Sale e pepe. In una ciotola sbattere i tuorli con la panna, il pecorino e il pepe, macinato fresco. In una padella, con il burro, rosolare bene il guanciale, tagliato a listerelle. Cuocere gli spaghetti in acqua bollente salata. Scolarli al dente. Versarli nella padella e mescolare. Togliere dal fuoco, aggiungere il composto di panna e uova e mescolare fino a che gli ingredienti risulteranno amalgamati. E voilà! Ecco la mia carbonara! Adesso mangio questa bella carbonara con la mia nonna. Guarda un po' Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!